Il nuovo capitolo sull'autonomia in programma venerdì 19 luglio alle 13 quando il Presidente del Consiglio, Conte, guiderà il tavolo di governo. L'ultima riunione sarà chiusa con uno scontro tra Ministri 5 Stelle e quelli della Lega sul tema della scuola. Il Presidente Zaia sfodera ottimismo anche se ricorda che poi toccherà alla Regione decidere se firmare o meno il contratto proposto dal Governo. È quasi un conclave, no? E a forza di fumate nere ne vedremo una di bianca prima o poi. Poi si tratterà di decidere se si firma o no. Dopo le Olimpiadi e il Prosecco Patrimonio dell'Umanità, Zaia è convinto che anche questa partita avrà un finale lieto e venerdì sarà un'altra tappa fondamentale verso una proposta da sottoporre alle Regioni. Il Veneto la sua l'ha già presentata nell'ottobre del 2018. Però in questo momento vedo di buon grado il fatto che il Presidente del Consiglio abbia avvocato a sé la pratica. Mi fa dire ai Veneti che quello che era un'utopia due anni fa, oggi l'agenda del Governo è centrale nella discussione in questo Paese. Venerdì sarà una giornata ulteriormente importante. Ci sono i presupposti perché il Governo chiude al suo interno una proposta di bozza da proporre a noi. Restano poi le accuse a Veneto e Lombardia in particolare di spaccare l'Italia, di dividere Nord e Sud e di aver fatto, specie il Veneto, richieste eccessive e spropositate rispetto alle concessioni possibili. Chi dice queste robe non ha mai studiato, del resto io a scuola avevo dei compagni di classe che leggevano i bignami, li trovo ancora in giro adesso che sono da bignami.